Ma lui dove cavolo era questo qua? Non ero mica là per... Ah no, siamo andati da sole evidentemente. O no. Non dovevamo incontrare lui. Al Grand. Perché sennò, che gliene fregava Alkyrio di ottenere ad ogni costo un posto VIP al Grand. Che gliene fregava. Che... Che... Che inferno di notte, eh. Di nottata. In più... In diversi modi che uno soltanto. Vuoi dire... A parte il... L'attacco... Bombarolo a casa. Solo per una cosa che è successa in città. Nulla di cui devi preoccuparti. Ok. Ma probabilmente devi fare una chiamata di controllo a Kashiwaji appena tu hai tempo. Sì, lo farò. Semplicemente fammi sapere quando sei pronto per andare alla partita generale della Omi. Ha molto senso andarci adesso. Ok. Allora, vediamo un attimo. Ok. Vabbè, però delle armi... Ok. Adesso qua potrebbero equipaggiare le tue a tre armi diverse. Digitale a sinistra, su e giù e... E a destra e giù invece la mette via. Ok. E appunto puoi mettervi un'arma... Da solo, automaticamente. Se no, la lasci giù, l'aveva già detto comunque alla fine. Qui parla delle armi. Ah. Dice che ci sono dei bonus legati ai colori dell'equipaggiamento. Quindi, per esempio, se metti un braccialetto rosso o una gemma... O meglio, non un braccialetto, come si chiamano quelle cose... Polsiere? Rosse. Un braccialetto con una gemma rossa. Praticamente attivi. Come si chiama? Blessing. La benedizione rossa. Un bonus chiamato benedizione rossa. Vabbè. Vabbè, queste sono le azioni di calore, ma la sappiamo già. Allora, una cosa. Io l'ho poi andato a vedere, perché appunto mi stava sulle scatole, che non sapevo i nomi di quelle icone lì. È chiaro che il primo sembrava appunto... Forza, è banale. Cioè, mostri muscoli. Niente. Poi non so se sono... I nomi ufficiali. Io ho trovato comunque che... Allora, quello rosso sarebbe la forza. Quello blu sarebbe l'agilità. Quello giallo... Vediamo un attimo. Qua. Quello giallo sarebbe lo spirito. Quello verde è la tecnica. E viola invece è il fascino. Mettiamo una così. Poi è chiaro che come diceva Claudio, quello che poi alla fine conta è che a te servono per fare le... Diverse combinazioni come vediamo qua. Per esempio, possiamo aumentare la vita consumando 14. Possiamo fare più di uno insieme, scusa. Questa acqua mezz'ora... Bob. Ok. Queste sono le statistiche. Quindi... Il... L'incremento della vita. L'incremento dell'attacco. Dalla difesa. Eccetera. Ognuno richiede statistiche diverse. Non ce n'è una che richiede invece quello che è chiamato agilità. La cosa si complica invece quando dobbiamo fare le mosse. E allora in tal proposito, visto che poi... Questo qua lo prendiamo. Questo qua è l'essenza del colpo di opportunità. Praticamente... Fai un sacco di danni alla gente che è intera premendo Y come al solito. Cioè un attacco... Questi sono un sacco. Vabbè. Poi stavo dicendo che... Ho visto che appunto dopo c'è il discorso della... Qui c'è anche... Eh... Sì adesso c'è tra l'altro... C'è anche un'... Un'abilità... O meglio... Allora... Statistiche generali. Abilità di battaglia. Abilità con la barra di calore. E queste invece sono... Abilità diciamo così... Dalla vita. Vita di ogni giorno in senso. Perché c'è per esempio questo... Che incrementa... La... La quantità di punti esperienza che vengono ottenuti in tutte... In tutte le... In cinque categorie. Perché non prenderle. Livello 2 invece... Vuole un sacco. Questo era il livello 1... Questo è il livello 2... E poi... Boh... Per ora non sappiamo... Ok. Tra l'altro... Invece in Judgment era un casino perché dovevi trovare i libri. Ti ricordo di Matteo. Per certe cose... Per esempio quello della fame no? Era un casino perché dovevi trovare i libri. Potete lamentare quelle statistiche lì. Boh... Eh... Facciamo... Proseguiamo un attimo. Questa è la storia principale dai. Ti è pronto per andare? Aspetta un attimo però. Eh... Mi sa che prima ci conviene... Facciamo un riferimento di... Dove è che era? Questo è un poppo. Questo... Sì è un riferimento di medicina intendo. Ma che non si sa mai. Dove cavolo è finito? Nord-Ovest. Nord-Ovest. Questo? Sì. Ok, sì. Quello è il Drive. Aspetta un attimo. Non si poteva mettere il coso, no? Adesso qui devo ancora rientrarmi per capire qual è il nord e qual è il sud. Dove è più facile forse se lasciassi la minimappa ferma, non lo so. Di solito quando ti mettono i skill che aumentano i punti di esperienza. Molto spesso sono punti sprecati. Molto spesso sono punti sprecati. Che tanto... L'esperienza la fai lo stesso. È sempre il discorso che... La maggioranza di RPG, action RPG, eccetera, eccetera, questo sparisce ovviamente. Le cose le mettono, ma alla fine i bilanciamenti, eccetera, eccetera, lasciamo sempre desiderare. Che una cosa sia utile o non utile, eccetera, eccetera. Allora, lì, un poco, non abbiamo 53.000 adesso, questo questo è 3.000. Ok. Adesso siamo appena 9.000, 12.000, 8.000. Vediamone 7. Basteranno 7. ZZ? XX, sì, sì, beh. Però... Boh, dici che ci serve, eh. Sai come la penso sulla barra calore? Perché la barra calore va bene, è buono riempirla, ma ti sfiorano, già si svuota. Quindi... No, ma è un salvataggio, dato che se qua siamo liberi di farlo. Cos'è? Cos'è? Ma spessi d'ora, eh, mod... Non sapevo niente di Kashawashi. Per ora. Pronto per andare? Ok. Tutto pronto. Ok. Non c'è nessuna via di ritorno per ora. Ok. Andiamo, vediamo. Qualc'altra parte sotto il mori. Ok. Detecti, io non minaccerei mai un civile. non c'è nessun problema, ma non c'è nessun problema. Non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa. Cavolo. Certamente questo qua deve essere una qualche forma di errore, io penso che intenda. Quando lei ha incontrato, si è incontrato col presidente del Kojima Realty. A quel caffè. E cos'è Kojima Realty? Ma vedremo. A quel caffè. Un mix up dice Claudio che vuol dire che ti hanno incastrato. Quindi lui ha detto che deve essere qualche sorta di trappola alla fine. Anche questo è difficile Pounding. Pounding è Meditando. Non è che stavamo... Cosa che intende dire? Non è che stavamo meditando a quel tavolo? Cos'è che stava meditando a quel tavolo? Pare che... Aspetta, vediamo. Ah, eccolo qua. La cacciatrice di Yakuza che abbiamo sentito dal titolo. Aoru Sayama. Strafiga, tra l'altro. E' sempre appunto... E' un detective della divisione 4. Dalla quarta divisione. E lui dice... Faccio fatica a chiamare quello... Pounding. Ma che cavolo è ste Pounding? Perché non è... Aspetta, no. Se mi ha detto scrivere Pound. Eh... Lui dice... Boh... Può essere Pestata. Non Calpestata. Può essere Calpestata o Pestata. Ma forse intendo dire un Pestaggio, forse. Faccio fatica a chiamare quello un Pestaggio. Vediamo un attimo. Più... 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 Un piccolo... Tap. Questo era tutto quello che era. A me sembrava... Suonava come un'estorsione, invece. Stai scherzando, giusto? Lei sta scherzando, giusto? Lei sta scherzando, giusto? Oh... Anche questo qua... Va battendo il pugno sul tavolo. Dice... Ma Pinch has... Non Trump... Ah, ma che cavolo dico? Ah, aspetta, forse ho capito. Sì... Cioè, va a avere... Pizzicarci con delle accuse false... Come quelle... E noi non saremmo... Capaci di... Tenere cibo sul tavolo. Cosa intende? Anche qui mi sembra un modo di dire. Forse intende dire che se ci pizzicassero... Con tutte queste accuse false... Noi non saremmo capaci di portare il cibo in tavolo. Nel senso che... Arrebbero già chiuso, praticamente. Cosa dici? Mh... Calodo invece propone... Se ci fai questo... Siamo fottuti, alla fine. Appunto, con le accuse false. Addirittura... Cioè, fottuti... Cioè, nel senso... Vediamo un attimo. Quindi dovete fare attenzione... Prima di iniziare... Un altro... Un'altra volta... Eh... A tirare in ballo la vostra... Famiglia... Nell'impaurire i civili. Second string... Ma no, perché second string? Perché sta iniziando a far fatica. Seconda corda. Cosa intenderà qua con seconda corda? Ah... Forse... Forse intende di una famiglia di... Di secondo piano... Una cosa così? Eh... Di secondo ordine? E qui sto cercando... Di mantenere insomma... Questo modo civile... Perché te sei una... Perché sei una ragazza. Teniti la tua... Dannata cavalleria. Che diavolo, signorina? I veri Yakuza... Insomma... Di solito cercano di... Di fare le cose in grande... E non di... Spaventare... Mamma mia... Stanno in crisi adesso... Mh... E non di spaventare la gente... Insomma... Per... Per andare a... Trovare un po' di spiccioli. Imprigionano... Distorsione... Assalto... Evasione di tasse... No... No... Noi... Vabbè... Mi porteremo insomma... Alla stazione... Polizia... Toglietimi le mani d'osso... Stronzo... Poglio le mani d'osso... Stronzo... E ora anche... Resistenza... All'arresto... Come... Ciliegina... In cima a tutto... Vabbè... Ok... Ci ha presentato questa tipa qua... Che evidentemente... Appunto è a cazza di... Yakuza... Ma a quanto pare... Di secondo ordine... Le anza ome... E clan tojo... Stanno cercando... Un accordo... Questo è quello che... La nostra... La nostra... Servizio... Insomma... Dicono... E... Quindi... Cos'è che quindi... La polizia... La polizia di Tokyo... Vuole da noi... Esattamente... Allora... Prendi Kiryu... In custodia... Se il... Trattate di pace... Falliscono... E... Kiryu... Finirà... Ucciso... Non... Ci sarà praticamente... Un bagno di sangue... Senza fine... Quindi... Quello che sto... Stai dicendo... È che... Tu vuoi che... Eh... Dei poliziotti... Eh... Facciano la BBC... Eh... Sì... Più o meno questo... Eh... C'è poco tempo... Quindi... Com'è... Contiamo sui te... Anche occhioni... Chi ha la tipa... Cosa partiva che stavo abbastanza bene... Adesso stavo entrando in crisi... Letteralmente... Un po' perché è difficile tradurlo... Ma in più... Questo mi incasina... Stavo incasinando veramente tanto... Questo è... Il prefetto... No... È il capo della polizia... Della... Prefettura di Osaka... Sempre nella quarta divisione... Evidentemente... Come gradi... La polizia... Di Tokyo... È... Sopra ovviamente... Questo invece... È per la prefettura di Osaka... Bello... Bello... Loro pensano che noi stiamo facendo un... Semplicemente uno show... Cioè... Siamo... Non siamo persone serie... Praticamente... Che cosa è successo? Ah... Sì... Era la... Divisione... La quarta divisione di Tokyo... Che cosa significa... Fare la baby sita... Allo yakuza... Sembra che... Kiryu insomma sia venuto nel Kansai... Sì... Quello... 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 Il... Quarto presidente... Il... Quarto presidente... L'ex... 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 Che cosa significa... ... Anche qua... È un continuo di modi di dire cavolo... Se lui... Perché lì ci sarebbe scritto... Se lui morde nel nostro... Nel nostro cortile... ... sarà appunto un est... un est contro ovest una tempesta di merda tra est e ovest praticamente ma anche qua se lui morda come lo traduci in italiano ma se farà casino nel nostro cortile di casa alla fine sarà appunto una una tempesta e loro quindi ci hanno chiesto di fargli da bodyguard da guardia del corpo alla fine che diavolo di casino bene perché non dai a me il caso allora diavolo no se io avessi bisogno di una babysitter non saresti quella che io chiamerei non saresti esattamente quella che io chiamerei e lei dice non è questa invece la nostra grossa chance chance noi prendiamo responsabilità per Kiryu ecco lui nella nostra custodia protettiva questo sarebbe il nostro biglietto per investigare sul canto giusto ok cosa tu vuoi andare accanto e mostrargli come le cose vengono fatte a Osaka va bene ma che se ne frega va bene ma che se ne frega cancellare un po' di sorrisi dai tizi di Tokyo ma sì puramente tende sempre a dire riferito al fatto che secondo loro quelli del dipartimento di polizia di Tokyo non hanno rispetto di questi di Osaka e quindi lì c'è la nostra occasione per mostrare chi siamo e togliere un po' di sorrisi dalle facce dipende da dove questo ci porterà ma noi potremmo deploy vuol dire piazzare insomma l'intera l'intera forza di polizia si quello sarebbe un l'ho usato anche prima sarebbe uno spazzo sì questo sarebbe uno spazzo la polizia di Osaka che invada il canto e il Fima alle 11 così avrò il lavoro ehi aspetta un attimo non è che tu stai ancora forse intende a dire insomma intende a dire che non è che tu sei ancora stai ancora andando dietro correndo dietro al clan Tojo no signore insomma vedremo la retroscena ma dà l'impressione che magari lei è entrata in polizia per qualche vendetta contro il clan Tojo dal discorso che sta facendo niente io lo sto chiedendo come principale detective della divisione insomma della quarta divisione è qui quindi niente di personale intende puoi giurarlo sì è tutto ok ok di qua per esempio vuol dire sarai senza guinzaglio insomma vabbè è via libera dai ho capito che bel portone gigantesco così così quell'esplosione Kashiwaji è sano è salvo così quell'esplosione ha fatto saltare tutto l'ufficio della famiglia Kazama però il patriarca Kashiwaji sta bene bene non è che pensi che sia stata la Omi ce l'ha praticamente detto quindi sì molto facilmente è stato Ryuji cosa sì l'ho incontrato l'altra notte a Sottenbori l'hai fatto beh è successo bella noi vi stavamo aspettando ma i quartieri generali si assomigliano tutti dai go e il suo inseparabile giubbottazzo tra l'altro presumo che anche in piena estate avrà su avrà su quel giubbotto sì volevo vedere quando mi passa il mio problema perché guarda stavo bene all'inizio poi li stavo andando in crisi adesso forse ho recuperato un attimino dovrebbe essere al piano di sopra eh bravi bravi e questa cosa qua io non la capirò mai vabbè questa suddittanza io proprio ok mi spiace che ma noi ma noi non riceviamo spesso ospiti da altre organizzazioni ok perché si è girato carina tra l'altro l'animazione ok in realtà noi dobbiamo andare di sopra però mi scuso signore ah questo è l'ascensore ma questo ascensore è riservato a solo per il presidente cos'è in sede dell'hotel presidente può essere adesso vediamo che c'è questa cosa qua quel candeliere quello è candeliere come si chiama è gigantesco e mi sembra un po' instabile di solito noi usiamo dei candelieri più piccoli questo è questo tizio che sta parlando questo qua che stai guardando adesso in realtà è qualcosa che il presidente è uno che il presidente ha trovato nel suo viaggio in Europa mi è piaciuto e quindi l'ha portato a casa sostanzialmente e lo ha appeso qui perché ce lo fa vedere perché dobbiamo farlo cadere in testa qualcuno dopo insomma è un uomo con dei gusti mondani diciamo ma mondani nel senso che non sono strettamente giapponesi più avanti c'è la la stanza insomma dei quattro dei in senso orario dal più a in basso a destra sono perio il drago azzurro bianco la tigre bianca suzaku il verme no cos'è la fenice vermilion cos'è tipo come si chiama non il porpora vabbè e jenbu la tartaruga nera ok adesso invece cosa ho da dire ok la prego di procedere dalla porta sopra le scale ma si vado di qua tra l'altro sembra che sia abbastanza bella bella grossa oh guarda quale armature samurai è di qua ok di qua però c'è ok praticamente insomma l'interno dell'edificio è piuttosto complesso magari è fatto apposta per rallentare gli intrusi addirittura dice nei vasi possiamo buttarli in terra no adesso cosa che ha da dire l'ho visto intrigato dal dal layout il layout in italiano è piantina insomma dalla piantina dell'edificio affacciata e modellata godacrest creste come era cresta c chimiero culmine criniera ciuffo il ciuffo di goda modellata secondo il ciuffo di goda oh non credo ah ok mentre invece la pianta praticamente è basato sul sigilo dell'alleanza che produce il sigilo dell'alleanza praticamente questo non possiamo usarlo eh eh no perché è solo per il presidente vai sulle scale la prego andate sulle scale presidente è un collezionista di antichità tutte insomma le ceramiche che trovi nella qui praticamente sono fatte a mano da dei maestri artigiani che sono praticamente senza prezzo ognuno di loro è praticamente un unico capolavoro e c'ha a gran gusto ok abbiamo capito e c'ha i soldi da spendere la torna aveva anche detto che il loro sigilo era più riconoscibile nel giappone che unico che